Acqua a dismisura, fango, strade crollate, la primavera forse solo sulla carta. Un probabile pesce d'aprile questo, viste le condizioni meteorologiche alquanto avverse in Calabria. Sulla strada statale che collega Seminara Palmi si è verificato il cedimento del manto stradale in più punti, ad un anno dalla grande frana che ha rischiato di risucchiare l'intera frazione di Sant'Anna. In queste ore, come vedete nelle immagini, si è registrata forte instabilità sull'intero territorio regionale. Il tutto accompagnato da un rinforzo di venti, nebbie e da un abbassamento brusco delle temperature. Ricordiamo che il maltempo che ha colpito in queste ultime ore il Vibonese ha messo a dura prova l'intero tessuto produttivo. Insomma, una regione nella morsa del maltempo ai tempi del coronavirus.